hashtag noi amiamo gli animali cosa c'è di più bello in inverno di una cioccolata calda un bel libro e un camino acceso assolutamente nulla se in tutto questo ci mettete anche il vostro piccolo fido accucciato ai vostri piedi il quadro è completo attenzione però perché i pericoli sono sempre in agguato e la salute del vostro cane potrebbe essere a rischio in questo nuovo video pensato per voi da noi di amore a quattro zampe ecco quali sono alcuni dei pericoli perfido di una stufa o un camino acceso e come prevenirli uno dei pericoli più gravi è l'avvelenamento per monossido di carbonio che in alcuni casi può essere anche letale perfido il monossido infatti impedisce ai globuli rossi di trasportare l'ossigeno fino a provocare una tossicità altamente pericolosa per il cuore e il sistema nervoso centrale solitamente si cominciano a vedere i primi segni di avvelenamento a seguito di inalazione di fumo a incendi o a guasti di sistemi di generatori domestici il monossido di carbonio non è belenoso solo per fido ma per tutti gli esseri viventi per cui ricordiamoci di stare tutti attenti ma come fare a capire se il nostro cucciolo è stato avvelenato bisogna prestare molta attenzione ai suoi comportamenti tra questi vi sono comportamento irritabile come ansia o aggressività fino a paura dei rumori dei bambini o di altri animali ma anche vomito sonolenza movimenti scoordinati rifiuto di entrare in casa dopo la passeggiata labbra gengive e orecchie arrossate insolita pigrizia e ovviamente difficoltà a respirare se riscontriamo nel cane uno qualsiasi di questi sintomi bisogna intervenire subito la prima cosa da fare è portare fido fuori all'aria aperta così che possa respirare aria pulita sarà poi necessario contattare immediatamente il vostro veterinario di fiducia per evitare questa situazione però sarebbe bene prevenire installando appositi congegni elettronici rilevatori di co non lasciando mai solo il vostro cane in un garage chiuso con veicoli in movimento eseguendo una corretta e costante manutenzione di tutti gli impianti a gas e relativi apparecchi non usando dispositivi al chiuso e conservando bombole di propano in un'area esterna per questo video è proprio tutto se vuoi saperne di più sui pericoli che corre fido con una stufa o un cammino accesi clicca sul link dell'articolo corrispondente ma non solo vuoi maggiori approfondimenti scoprili sempre nel link che trovi qui sotto anche il vostro cane ama stare al caldo di un fuoco acceso fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di amore a quattro zampe ciao ciao